salve a tutti sono qui con paolo crimaldi uno degli astrologi italiani più famosi ed è anche un professore di filosofia uno psicologo e sono lietissima di intervistarlo per il suo libro che è appena uscito e che ho avuto il piacere di leggere adesso piano piano ne ne parleremo è un libro molto interessante perché parla dei cicli di vita e quindi adesso ci spieghi che cos'è in astrologia ciao paolo buongiorno o buonasera siamo lo vedrete voi tranquilli è un libro che in realtà nasce da un incrocio tra psicologia astrologia antropologia filosofia un po tutti quelli che sono i miei interessi quindi è stato scritto in un modo interdisciplinare certo l'astrologia ci insegna che la vita è fatta di cicli i cicli del pianeta e la psicologia ci è arrivata diciamo a metà degli anni cinquanta con gli studi di alcuni psicologi come ericsson ed altri ancora e poi chiaramente l'antropologia ci ha fatto scoprire che tutte le popolazioni hanno dei rituali dei cicli in alcune età quei famosi riti di passaggio per cui chiaramente questo libro vuole spiegare un po quali sono questi riti che ancora ci appartengono e nello specifico chiaramente io penso che ne so al ciclo dei 28 anni il rito dei passaggi dei 28 anni di quando saturno torna su se stesso o dei 42 quando urano si oppone a se stesso queste sono tutti come dire a cicli ma anche a momenti importantissimi momenti cardine in un percorso umano chiaramente non è che per tutti c'è la stessa cosa diciamo quel momento è particolarmente importante a livello esistenziale per fare delle scelte ma anche per capire determinate cose che prima forse era un po difficile sembra 28 anni iniziamo ad entrare nella vita concreta iniziamo a sentire veramente la responsabilità di chi dovremmo essere tanto dal punto di vista professionale quando dal punto di vista a potremmo dire relazionale affettivo e dicasi lo stesso per i 42 anni quando invece iniziamo a lasciare quando iniziamo ad abbandonare praticamente il quella necessità quel bisogno di approvazione degli altri iniziamo invece a essere un po più liberi a dire ok io sono così non ti sta bene ciao ciao è vero ma tu come ti sei appassionata all'astrologia ah non lo so cioè nel senso che da sempre diciamo che il primo libro di astrologia l'ho comprato che avevo 14 anni e nonostante i calcoli quindi calcoli matematici per cui la matematica per me è stata sempre un mistero è più facile capire una legge della magia cerimoniale posso dire la stessa cosa guarda per la matematica bravissima scuola matematica zero proprio ho imparato i calcoli sessagesimali men che non si dica infatti poi il terzo anno di liceo per me fu una fortuna perché c'era una tutta la matematica dei sessagesimali no la la trigonometria eccetera per cui andavo benissimo la mia insegnante di matematica non si capacitava ma ci ci voleva un input proprio diciamo che ho iniziato a 14 anni e la cosa che io ho amato sempre non mi ha mai tradito e prima di tutte le altre cose quindi prima di essere un insegnante di filosofia uno psicologo un psicoterapeuta tutto questo prima c'è l'astrologia senza l'astrologia forse non sarei mai approdato a un approccio a queste altre discipline con una complessità che a mio avviso possiede solo l'astrologia non è un caso che poi è una disciplina che ha tantissimi secoli alle sue spalle circa 30 e c'ha sempre qualcosa da insegnare il problema non è che l'astrologia è sbagliata e chi la fa che a volte può usarla male e commettere degli errori anche in totale buona fede perché in realtà come anche uno psicologo non è uno strumento di una particolare scuola di psicologia o un particolare test ma chi lo utilizza se lo sa utilizzare come lo utilizza diciamo c'è un discorso poi di fondo etico oltre che professionale certo ma ti sei fatto aiutare da qualcuno a scegliere questo tema ti è arrivato da solo questo ciclo di vita per questo libro perché tutti i libri ne hai scritti tantissimi e anzi a tale proposito voglio dire che sotto all'info box c'è un link per andare a vedere poi tutti i tuoi libri il link al sito dell'astrologia in linea che io non sapevo assolutamente ci fossi tu sono anni che lo seguo quindi no io devo dire che no non me l'ha proposto nessuno il titolo io sono sempre questo molto anarchico cioè nel senso che sento dei bisogni e inizio a studiare quando sono pronto quando credo che siano mature le cose scrivo e tra l'altro il libro non lo scrivo mai perché l'edito cioè devo dire con edizioni mediterranee ma anche gli altri miei editori ho avuto sempre una grande fortuna di mantenere una libertà assoluta in quello che scrivo ma perché sanno che sei vincente e allora ti lasciano tranquillamente al tuo sentire grazie ma non credo che sia solo questo sanno che se mi dovessi mettere a scrivere un libro a tavolino tanti anni fa quando c'è stato il periodo in cui lavoravo anche in televisione con un oroscopo giornaliero su Rai3 mi fu data la possibilità di fare una specie di almanacco annuale beh è stata per me la cosa più difficile in assoluto è stata anche la cosa che forse mi ha gratificato di meno perché perché ero sotto contratto perché dovevo fare quel determinato tipo di libro con quelle determinati tipi di dinamica eccetera per cui non mi piaceva proprio invece quando sono libero di spaziare io parto con una cosa posso finire su tutt'altra cosa tra quindi i miei libri sono un po così prendono parto da un momento in cui elaboro leggo tutto quello che c'è sull'argomento tutto quello che riesco a leggere sull'argomento poi come dire resta lì in esperienza professionale ma assoluto mi confronto con quelle che sono invece delle mie idee delle mie con teorie che mi hanno portato a cercare questo argomento lei confronto a una io un libro lo giudico sempre dalle citazioni se un libro non ha citazioni e bibliografia non vale nulla perché è un blef un libro deve avere le citazioni e la bibliografia per dire che un libro più o meno serio io anni fa ho avuto uno scontro polemico ma molto duro con una una mia no non la definisco una collega perché una persona che copia pari passo un libro non è una collega quando avevo sgamato che aveva copiato questo mio libro su chirone uno dei miei primi libri infatti lo volevo nominare dopo ne parliamo un attimo sì quando io avevo affermato insomma questa cosa è successo io ho detto beh vuoi la prova io ho letto un passo del mio libro in relazione al suo ecco io questo quando in genere chi non mette bibliografia chi non mette citazioni dietro c'è sempre qualcosa io invece trovo che sia molto bello riportare ciò che gli altri hanno detto e andare avanti perché questo è un modo per arricchirsi un po tutti da un punto di vista culturale di conoscenze quindi io e io così scelgo i libri se un libro non c'è bibliografia lo lascio dove sta non lo prendo perfetto il mio libro c'è là perché ho scritto un libro su lei che c'è la bibliografia quindi lo puoi leggere ma sai cosa è importantissima la bibliografia perché ti fa capire anche il percorso che hai fatto e che non sei l'improvviso una cosa ma è un percorso che ha avuto un suo tempo la sua elaborazione un suo confronto e arricchente non è molti pensano invece che citare dei libri altrui sia un po come dire va a togliere nota a mettere da voi sono d'accordo su questo allora visto che abbiamo nominato chirone che ci dici di chirone perché è ovviamente anche nominato in questo libro quindi se hai un libro su chirone ma anche su questo libro cicli di vita che appena uscito lo nomini in più momenti allora chirone io dico sempre che il mio cavallo di battaglia nel senso che il mio simbolo il mio sono stato il primo a scrivere un libro su chirone in italia quando non se ne parlava proprio a fine a metà degli anni 90 chirone per me è un libro c'è un libro scusami un pianeta che mi ha insegnato tantissimo il nostro maestro interiore è tutto ciò che ci permette di fare delle esperienze che sono un po marginali sono da non allineati del resto è un po essere un po animale un po umano essere un po guaritore ma nello stesso tempo guerriero quindi in realtà sono quelle parti borderline della nostra personalità chiamiamole per semplificarle c'è quella capacità di stare da un lato e dall'altro che poi ci aiuta tantissimo perché è una cosa estremamente creativa e quindi questo è un piantissimo proprio questa è una cosa che amo di più di chirone ecco allora entriamo un po più nel particolare dei dei cicli di vita per esempio saturno si ripete ogni 8 anni non ricordo male ogni 28 29 anni saturno ritorna a se stesso diciamo che ha il ciclo di saturno noi mediamente lo sperimentiamo tre volte 28 56 58 perché però non è mai così preciso certo arrivare poi ecco con la matematica al terzo eh 56 86 84 più o meno insomma quelle quelle tali come del resto eh il ciclo di magari 84 già insomma ce ne accorgiamo un po meno oggi no ce ne accorgiamo diciamo che eh come pure noi 84 anni è un'età molto importante perché porta alla conclusione del ciclo di urano quindi la vita media la vita media di una persona eh però io devo dire che a saturno diciamo che viene sempre così mal considerato eh viene visto come un apportatore di disagi in realtà saturno è il grande investitore dello zodiaco ciò che toglie poi restituisce sempre e con gli interessi quindi diciamo i suoi cicli ci insegnano ai rinunciare a determinate cose ad esempio a 28 anni noi rinunciamo definitivamente con le buone o con le cattive alla nostra adolescenza a quella quel periodo più o meno spensierato e siamo costretti a in un modo o nell'altro a decidere quale sarà il nostro percorso nei prossimi 28 anni ad assumerci la responsabilità di persone adulte quindi persone capaci di avere una vita relazionale forse un po più stabile un lavoro che non è a come dire è solo una sperimentazione ma di ho capito io non ti sento no sì no 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 non ho parlato ti ho lasciato parlare comunque la la connessione si era un po rovinata infatti ti sentivo un po attratti ma comunque adesso ripreso bene e senti invece per quanto riguarda giove che ci dici giove è il pianeta dell'espansione un po giove è un pianeta un po ecco molti pensano che giove sia positivo e saturno sia negativo a mio avviso invece a volte è più pericoloso giove perché addirittura certo perché giove ci fa correre dei rischi no e sempre ah che bello va tutto bene quando arriva un trigono di giove ci porta tante cose è vero però non ci dobbiamo dimenticare che quando va via è tutto quello che ci ha portato se non abbiamo saputo ben gestire ce lo toglie o meglio ci può addirittura lasciare dei debiti quindi bisogna fare attenzione giove espande ciò che trova quindi se trova poco espande anche quel poco dando quella arroganza quella sensazione di essere come dire ah nel giusto per poi dopo lasciare un conto piuttosto salato i cicli di giove durano 12 anni ogni 12 anni giove ritorna su se stesso e quindi forma che ne so ah ogni diciamo a 12 anni entriamo ah poi in quella fase della vita in cui è la preadolescenza si inizia a sentire i primi turbamenti a 24 è il momento in cui probabilmente abbiamo teoricamente concluso se abbiamo fatto l'università l'abbiamo conclusa e quindi iniziamo a mettere un primo timido a piede nel mondo del lavoro e comunque a sperimentare una responsabilità diversa diversa certo a 36 anni invece c'è il momento in cui si iniziano ad avere le prime grandi affermazioni professionali cioè i dei riconoscimenti ma è anche il momento per fare dei salti di qualità per poi arrivare praticamente da 48 anni circa per iniziare a capire dove veramente ci vogliamo come dire orientare e quindi parte questo quarto ciclo che è molto importante perché si inizia ad aprire la strada verso la spiritualità dove per spiritualità non significa religiosità ma significa iniziare ad avere un progetto di vita no 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 certo differente anche delle aspettative molto diverse da quelle che si aveva ecco ti sei frizzato un attimo a stavolta non ti sento io alo ok quindi stavi parlando di giove stavamo ancora su giove o no stavamo ancora su giove sì sì stavamo ancora su giove poi era arrivato a chironi a 51 anni la spiritualità ecco la spiritualità di chironi ok possiamo parlare adesso di marte e luna a questo punto che ne dici ma assolutamente sì marte il grande attivatore dello zodiaco vedi ti sei frizzato un'altra volta c'è marte in realtà atta guarda adesso ci sei di nuovo è un'intervista spiritosina non so perché sì 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 ma no dai tanto poi alla fine ce la facciamo ma marte soprattutto crea un po di problemi e quindi ti dicevo questo arte rappresenta un po il grande attivatore dello zodiaco e ci permette praticamente di ottenere delle cose anche molto importanti però nello stesso tempo può fare esplodere situazioni in come dire i bloccati se adesso noi abbiamo avuto questo lungo passaggio di marte in gemelli che ha creato un po di problemi soprattutto magari per i pesci per i sagittari per le vergini e i gemelli stessi perché ha attivato una serie di dinamiche che erano particolarmente non facili da gestire ok ho capito bene e che ci vuole che altro ci vuoi dire di questo libro ecco ti lascio un po di questo libro per me ripeto è un po un punto di arrivo di un po dei miei studi di astrologia una specie di summa tra come dicevo all'inizio tra astrologia psicologia eccetera ma soprattutto è anche un libro che io ho scritto un po per gli astrologi che vogliono iniziare a leggere l'astrologia anche come percorso di vita non solo come previsioni ci sta pure tutti i capitoli hanno comunque un approccio previsionale però importante capire è un libro che vuole spingere a far capire perché accade quella cosa in che modo la possiamo utilizzare anche la cosa è una sfida ecco un libro fatto di parecchie sfide e quindi un libro che apre a una consapevolezza diversa tra l'altro si lega molto a un mio libro scritto qualche anno fa sempre per le edizioni mediterranee che però ero di carattere più psicologico infatti si chiamava iniziazione alla psicologia karmica che diciamo certo era la parte più teorica di questo libro e sicuramente per niente astrologica ecco qui ci sta tutta la parte astrologica ecco ecco però c'è domini anche il daimon nel tuo libro il daimon è un po viene a rappresentare quello che è la nostra voce interiore che ci spinge a realizzare ciò che siamo e ciò che siamo spesso è molto diverso da ciò che che crediamo di essere volte questo daimon si manifesta da ragazzini e quindi magari sono quei talenti quelle persone che da cinque era quando avevano cinque anni volevano fare il cantante piuttosto che ci diventano questa voce noi spesso questa voce non la non l'ascoltiamo e il rischio poi è quella di tradirci profondamente ecco nel libro ci sono delle indicazioni un po per riconoscere anche quello che è il nostro daimon l'indicazione di tipo astrologico ecco bene ci siamo dimenticati di qualche pianeta parliamo anche dei nodi lunari perché tu l'hai comunque nominati anche i nodi lunari come come funziona questa cosa perché non l'ho mai capito molto bene in astrologia non è che sono un esperto anzi diciamo per nulla però insomma sono più influenzata delle cose delle manette venite insomma rappresentano un po le scelte che vengono relative sia a problematiche legate a vite passate che all'attuale vita il nodo sud rappresenta poi il percorso che abbiamo avuto nella vita precedente mentre il nodo nord ci dice il dove siamo diretti qual è la nostra sfida il nodo sud però ci dice pure le problematiche che noi acquisiamo nelle primissime la primissima infanzia con i primi rapporti relazionali quindi con la mamma con il caregiver con la cura di riferimento con i fratelli magari certo però i genitori perché quelle sono le parti più importanti perché sono le primissime esperienze i primi mesi di vita proprio il nodo sud mentre il nodo nord ci dice il percorso che noi abbiamo scelto di fare in questa vita e di portare avanti e i transiti di questi pianeti di questi nodi che non è un pianeta ma è un punto energetico i transiti ci dicono praticamente segnano i momenti cruciali per fare delle più che delle analisi direi collocarsi con se stessi e capire qual è la sfida del momento come affrontarla e come fare quel passo in avanti a livello evolutivo ho capito senti ma noi è già un po che stiamo parlando del tuo libro io ancora non l'ho fatto vedere eccolo qui è bello molto bello l'ho letto eccolo qui però manca una cosa mi dispiace dirtelo però manca una cosa eh sì davvero sì purtroppo te lo devo dire eh tu ridi però manca una cosa eh no no ma io nella mia quante cose male sei così sicuro del tuo libro sei sicuro che non manca qualcosa manca e come quindi sai una sola già sono contento sono contento di una sola cosa è una cosa semplicissima che va semplicemente aggiunta e che però mi porta a dover andare alla libreria rotondi il 3 di marzo qui a roma perché lì c'è la presentazione del tuo libro ci voglio mettere l'altuodografo e quindi è questa la cosa che manca sarà il primo autografo propenso assolutamente sì ce ne saranno tanti ma ti dico pure di più nel libro sicuramente mancherà qualcosa eh e voglia le cose pensa quando si rilegge un libro io tutti i miei libri quando li leggo li vorrei riscrivere da capo perché dico non ho messo questo non ho messo quello c'è sempre questa cosa è tutto materiale può avere un prossimo libro quindi va bene anche se ci manca qualcosa l'importante secondo me che quello che è scritto è scritto bene poi qualsiasi cosa non è che uno può fare sempre ogni volta un tomo si 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 sono d'accordo ecco va benissimo va benissimo ci vuoi dire qualche altra cosa dei due altri libri un libro a quale sei particolarmente legato a parte quello di chirone perché l'hai detto è un libro a cui sono particolarmente legato è iniziazione agli amori che cambiano la vita è un libro che per varie ragioni anche mie per estrettamente personali lo sento proprio mio mio profondamente del libro che quando qualcuno mi dice ma che da quale libro posso iniziare anche se non è un libro di astrologia dico iniziate sempre dagli amori che cambiano la vita è un libro che molto trasformativo soprattutto per chi vive delle relazioni affettive come dire un po' turbolente o un po' fuori dal comune ecco questo è un libro che e poi l'altro l'ultimo che ho scritto prima di quello precedente che è sesso eroico flore delle edizioni spazio interiore che è un libro che praticamente aiuta a guardare la sessualità come esperienza anche di cammino spirituale di evoluzione e quindi anche questo libro sono particolarmente legato legato ebbene ne hai scritti diversi e comunque puoi spaziare tranquillamente su quello che vuoi senti ma nella tua vita di tutti i giorni visto che tu sei professore di filosofia che cosa ti dicono gli allievi con questa astrologia che c'è gran parte insomma importanza nella tua vita ormai ci hanno fatto l'abitudine sono curiosi ma poi sai se ne parla ma relativamente nel senso che sai un po come avere che so il padre cantante in casa o la mamma attrice cioè nel senso che è normale scontato magari ci si ricorda solo se succede qualcosa mi ha lasciato secondo lei come va ma sono piccole cose diciamo e a me invece serve molto l'astrologia un po per individuare anche i loro caratteri loro per aiutarli per fare in modo di stimolare al meglio le loro potenzialità poi se qualche collega naso che pensa che sia una cosa priva di fondamento eccetera ma a me non interessa ma sono problemi loro insomma esatto ma poi se siamo pronti a credere a tante stupidaggini che ci rovinano la vita però poi credere non si può pure credere ma poi se travi dei risultati quantomeno è vero per te quindi è giusto così se tu riesci in questo modo a stimolarli significa che in un certo senso sei il loro big maglione no quindi ben venga assolutamente assolutamente ok va bene paolo se c'è qualche altra cosa che vuoi dire se no salutiamo facendo di vedere di nuovo libro sì anche un po di curiosità a chi ci ha curiosità perché le persone se sono a roma se vogliono comunque venire a roma almeno possono conoscerti di di persona e gustarsi ancora di più il libro con un tuo autografo come sarà per me oltretutto si sarà credo comunque scusa finisci dicevo andrò in giro pure a presentare un italia ci sono già programmate bologna firenze milano luscia quindi un po dappertutto insomma certo certo che questa presentazione di roma sarà trasmessa su youtube quindi chi vuole sarà possibile tu sei su facebook come paolo grimaldi quindi venderai tranquillamente sulla pagina certo assolutamente sì 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 assolutamente eccolo qui bellissimo libro ve lo consiglio perché a me è piaciuto molto e andrò a completarlo venerdì tre in libreria grazie paolo ciao 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 ciao